20 giugno 1960, la federazione del Mali, composta dal Senegal e dal Sudan francese, proclama la propria indipendenza. È un passo importante che si deve soprattutto al lavoro politico di Leopold Sedar Senghor, senegalese padre della patria, che già da anni aveva gettato le premesse per l'indipendenza. La federazione del Mali dura tuttavia pochi mesi. Nel settembre del 60 il Senegal diventa Repubblica Indipendente e Senghor è nominato presidente. Il Sudan francese assume il nome di Repubblica del Mali sotto la presidenza autoritaria di Keita. Nel novembre 1968 alcuni ufficiali dell'esercito rovesciano il governo e insediano alla guida del paese, il colonnello Mussa Traore.